Allora, allora, sempre per i vestiti, qui abbiamo due vestiti da vedova nera, uno è proprio una vedova nera, ve lo faccio vedere, è questo qui. Questo è proprio da vedova nera, poi anche il manichino nero, proprio da vedova nera, un altro è questo. Vediamo un po' se riesco a inquadrarmelo bene, ecco, le scarpe tipo queste, vediamo un po' se ve l'ho inquadrato bene. Eh, ma signori, no, 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 no. Grazie. Grazie.